Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguri. Il mese di maggio 2021 è stato contraddistinto da numerosi eventi sismici, moltissimi in Italia, e oggi, 29 maggio, la terra torna a tremare e lo fa a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Registriamo un terremoto di grado 3,3 della scala Richter avvenuto a largo della nota località turistica. Qualche settimana fa avevamo registrato altre scosse nelle Marche, insomma, un periodo denso di eventi sismici. Ciao a tutti.